Ok, questo è il modo come io giro i miei video. Ma non servono 4 lampade, un green screen e una reflex digitale per creare video efficaci da pubblicare su YouTube, Facebook o la IGTV, quello che vuoi. Spesso uno smartphone è più che sufficiente e in questo video ti spiego come fare e ti do indicazioni per alcuni strumenti utilissimi. Ci stai? Vi ritrovate immaginativi, il tuo smartphone è il primo strumento con cui iniziare a creare video e in alcuni casi anche il migliore perché lo hai sempre con te nella tasca della giacca e lo puoi estrarre con assoluta facilità. Sto parlando di telefoni Full HD che per quanto riguarda la gamma iPhone dal 6 in poi sono strumenti assolutamente performanti. Se hai invece un telefono Android ti consiglio di scaricare questa app che si chiama Filmic Pro Evaluator. Questa app verifica che il tuo telefono supporti tutte le funzionalità di Filmic Pro. Un'applicazione per girare video professionali con il tuo smartphone. In pratica è uno strumento semplicissimo per verificare le potenzialità della tua camera e del tuo hardware per la creazione di video. Ovviamente ci sono telecamere molto più performanti. Quello che voglio dire è che uno smartphone lo hai già in tasca e non hai quindi nessuna scusa per procrastinare il giorno in cui inizierai a girare il tuo primo videocorso o il tuo primo videotutorial. In questo video ti do indicazioni di alcuni strumenti utilissimi per creare il tuo video con un aspetto assolutamente professionale. Primo, il treppiedi. Una volta che hai preso dimestichezza con i ganci, il treppiedi diventerà il tuo più fidato assistenze a cui potrai delegare il noiosissimo compito di sorreggere la telecamera e tu potrai finalmente concentrati su quello che è davvero importante per te che è la tua concentrazione, la tua performance e quello che stai comunicando al tuo spettatore. Questo è un cavalletto molto basico ed economico che è comunque funzionalissimo per un'inquadratura statica e per sorreggere l'esiguo peso di uno smartphone. Quello che ti serve è semplicemente portare la camera all'altezza degli occhi per un'inquadratura neutra e ovviamente liberare le tue mani. In descrizione ti lascio il link a questo prodotto. Se ne vuoi cercare un altro, ti raccomando di controllare sempre l'altezza massima a cui può arrivare un cavalletto. Esistono infatti dei cavalletti fotografici molto più bassi che sono destinati ad altre funzioni ma questi non ti permettono di avere la camera all'altezza degli occhi e poterti rivolgere a lei come se fosse una persona davanti a te. Per poter attaccare il tuo smartphone ad un cavalletto devi avere un gancio simile a questo. Questi strumenti ti permettono di agganciare saldamente il tuo smartphone e attraverso la vite standard di fissarlo su un cavalletto. In questo modo non si muoverà più. Questo non l'ho ancora provato ma è sulla mia lista dei desideri. Mi sembra perfetto per girare video veloci dalla scrivania perché assicura il tuo telefono in maniera rapida e sicura a un ripiano di lavoro. In più ha quel bellissimo ring che permette di illuminare il viso e sistemare un pochino la luce. Microfono Se ancora qualcuno non mi avesse sentito dirlo un normale telefono registra un video a una qualità decorosa ma la qualità dell'audio è assolutamente scarsa. Se vuoi autoprodurre i tuoi video con uno smartphone la prima cosa da fare è investire in un microfono. Non è necessario spendere centinaia di euro, ce ne sono anche di molto economici come ad esempio quello che indosso io. In questo video ti spiego un pochino la differenza tra tre tipologie di microfoni. i microfoni a gelato, quelli classici da intervista, i microfoni a fucile e i microfoni da bavero o da cravatta come questo qua che indosso io. Se registri dei video tipo video corsi o video tutorial, i microfoni da bavero o da cravatta, tipo quello che indosso io, sono secondo me i più funzionali. Inoltre sono i più economici e quindi non hai nessuna scusa per non iniziare a sperimentarti. Il microfono che sto utilizzando io è un Boia M1. Sicuramente la casa produttrice non ha il prestigio della Rode ma il rapporto qualità prezzo è assolutamente vantaggioso. In più questo microfono ha il pregio di avere il cavo lungo 6 metri e questo ti permette di agganciarlo ai vestiti agganciati alla telecamera e allontanarti anche fino a 6 metri per ottenere l'inquadratura che vuoi. Alcuni di voi potrebbero avere un telefonino senza il classico buchino per gli auricolari. Infatti dall'iPhone 7 in poi, nel corso del 2018, parecchie case produttrici hanno deciso di abbandonare questo buon vecchio standard, il mini jack TRRS. Quindi bisogna trovare altre soluzioni. Esistono, anche se sono assolutamente meno diffusi, dei microfoni con dei connettori diversi che utilizzano lo standard lightning per la piattaforma Apple e USB-C per la piattaforma Android. Qua ne vedete due, sono della Boia e sono l'esatto equivalente del microfono che sto utilizzando ma con dei connettori diversi per poter appunto essere utilizzati con degli smartphone sprovvisti di buchino per gli auricolari. Luce. Non sono una fanatica delle luci artificiali, ma è indubbio che per un effetto professionale la qualità dell'illuminazione è fondamentale. La soluzione più immediata è quella di metterti davanti a una finestra. È opportuno scegliere un momento del giorno in cui la luce non entra direttamente, il sole non entra direttamente, è meglio utilizzare una giornata in cui è nuvoloso, cerca di aprire le finestre per far entrare quanta più luce possibile. Poi, una volta che hai scelto la tua posizione in base alla finestra, lo sfondo viene un po' in secondo piano e quindi non hai molte possibilità di influire e allestire lo spazio dietro di te. Quindi, utilizzare delle luci artificiali ti garantisce in realtà un sacco di libertà perché ti puoi spostare come preferisci all'interno della tua casa e del tuo studio e le luci ti seguono. La soluzione più gettonata al momento è questa ed è un ring. È molto utilizzato nei tutorial di trucco. Infatti, il ring è utile per illuminare il viso dalle spalle in su. Non ha una grandissima potenza. Quindi, se lo allontani un pochino da te, rischi di non avere abbastanza luce in viso. In ogni caso, lo sfondo tende a rimanere un pochino in penombra. Nella guida Crea il tuo set TV, approfondisco il tema dell'illuminazione. Quindi, stativi, lampadi, porta lampada e diffusore. Propongo soluzioni anche un pochino più complesse e ti invito a leggerla se sei interessato al tema. Oggi, invece, ti propongo una soluzione molto più pratica e fai da te. Eccola. È una semplicissima lampadina che si può acquistare in un negozio di elettronica, di ferramenta, in un centro fai da te. È una lampada a luce fredda e a LED. Perché a LED e perché a luce fredda? A LED perché hanno un consumo nettamente inferiore, quindi delle lampade anche di dimensioni ridotte, riescono ad avere una buona potenza di illuminazione e delle buone prestazioni. A luce fredda perché è lo stesso colore della luce diurna. Quindi, puoi utilizzare le lampade in aggiunta alla luce che già normalmente entra nel tuo studio o nella tua casa. Se utilizzi delle lampade a luce calda in una stanza dove comunque entra la luce diurna, il bilanciamento di bianco della tua telecamera non riuscirà a funzionare in un modo corretto e in ogni caso non si riesce a impostare il colore della tua immagine. Queste sono normalissime lampadine. Attacco E27, che è il più diffuso, e le puoi montare normalmente su delle lampade da scrivania o delle lampade a stelo da salotto. La cosa che ti raccomando è, utilizza sempre due lampade, una a destra e una a sinistra in maniera simmetrica. Quindi questo per evitare le ombre sul volto e illuminare il tuo viso in maniera omogenea. Secondo, cerca di diffondere la luce in maniera simile a quanto fanno gli ombrellini o i softbox. Io ho utilizzato delle calze da bambina bianche, sono quelle di mia figlia, ma ci sono un sacco di altre soluzioni. Puoi utilizzare per esempio la carta da forno bianca trasparente e di tutorial sul tema lampade fai da te, in inglese ce ne sono un'infinità. La cosa che ti raccomando è, avvicinare quanto più possibile le lampade al soggetto, perché comunque queste lampadine non hanno una grandissima potenza. Quindi avvicinare la fonte luminosa al soggetto ti assicura una maggiore quantità di luce. Secondo, cerca di posizionare le lampade più in alto della testa in modo che la luce arrivi dall'alto. Questo perché è un effetto più naturale, perché è la maniera in cui normalmente il sole illumina gli spazi. Le lampade che trovi nei negozi specializzati hanno normalmente un valore CRI, quindi di qualità cromatica, attorno tra i 90 e i 95. Questo valore sta a indicare in che modo la luce riesce a rappresentare il colore in maniera realistica. Le lampade ad uso domestico normalmente hanno un indice CRI attorno agli 80 ed è veramente, veramente difficile riuscire a trovarlo. Io ho scelto queste lampadine tra le molte che mi proponeva Amazon perché quantomeno mi indicava l'indice CRI. Per oggi è concluso, se l'argomento ti piace lasciami il pollicione e se hai domande scrivimele qua sotto. L'ultimo consiglio finale è quello di utilizzare quanto più possibile la camera sul retro, non quindi la camera normalmente utilizzata per i selfie. Questo perché, primo, ha una qualità nettamente superiore, sia per numero di pixel, sia per qualità dell'obiettivo. Secondo, perché in questo modo si evita un fastidioso e diffuso vizio di guardare lo schermo mentre si registra un video. Il tuo spettatore non è nello schermo, ma è proprio dentro in quell'obiettivo. A questo proposito ti rimando a un simpatico articolo di cui vado molto fiera che si intitola Migliore i tuoi video con un post-it, dove affronto proprio questo argomento. A questo punto non mi resta che invitarti a iscriverti alla newsletter per ricevere in omaggio la guida di cui ti ho abbondantemente parlato, ma è anche il modo per rimanere in contatto e per ricevere promozioni e omaggi. Quindi ora è il momento per prendere in mano il tuo smartphone e mettere in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti.